Sì, siamo veramente molto orgogliosi di riuscire a riconfermare la sede di Città della Scienza, lo diciamo con un pizzico di orgoglio, perché all'indomani del dramma, del rogo, non abbiamo mai messo in discussione la destinazione di Lilliput. Quest'anno l'offerta si amplia, abbiamo 40 laboratori ludico-didattici che spaziano dal teatro alla musica, alla manipolazione, le fattorie didattiche. Dai 3 ai 12 anni i bambini diventeranno protagonisti per questi sei giorni di attività. Anche il risultato e la risposta da parte delle scuole è stato entusiasmante. Oggi abbiamo circa 800 bambini presenti e nei prossimi giorni abbiamo circa 4.000 prenotazioni. Ovviamente parliamo solo delle scuole perché ci attendiamo nei giorni del 1 maggio, di sabato e domenica, dove proroghiamo gli orari di chiusura sino alle 20, anche la partecipazione delle famiglie. Da imprenditore sono pienamente convinta che Bagnoli vada riconosciuta come polo scientifico e della cultura. Quindi sia pubblico che privato bisogna lavorare tutti insieme affinché questa area possa rivivere nuovamente dei momenti di gloria e non solo, di visibilità a livello internazionale grazie alle eccellenze che operano in questo settore. Grazie. Grazie! 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 Grazie a tutti!